Ma quali sono secondo lei, in termini ovviamente sempre di emergenze ambientali, le priorità che deve avere la Regione Lombardia e in cui deve intervenire? Settimana scorsa la Giunta regionale ha approvato il progetto di legge di riforma del servizio idrico integrato. Ci può spiegare ovviamente in sintesi quali sono i contenuti di questo progetto di legge? Che termini, ovvero quali saranno le competenze specifiche dei comuni? Cambiamo per un attimo l'argomento, ma comunque restiamo legati ad un tema particolarmente importante per lei, di cui se ne è occupato particolarmente, ovvero il tunnel di Viale Lombardia. Quindi questo interramento dell'ultimo tratto della Statale 36. Lei aveva chiesto all'assessore Cadeo un tavolo tecnico permanente e alla sua richiesta pare che la cosa sia stata presa in considerazione. Quindi immagino che lei sia soddisfatto di questo. Ha parlato, ma questo veramente brevemente, perché abbiamo due minuti prima di chiudere, si è parlato anche di biosfere per la riqualificazione della superficie del tunnel. Noi voi non ci lasciate perché tra poco parleremo di tutt'altro, parleremo di sport e lo faremo con Alfio Musmarra. Tra poco. Leggevo che per qualcuno non si è guardato, non si è potuto guardare un gran calcio, ma solo una gran voglia di esserci, se possiamo dire così. Una curiosità, al di là degli infortuni che è evidente che ci sono, se ci fosse stato Murigno sulla panchina dell'Inter, questo sarebbe accaduto? Guarda, questa è una domanda da 100 milioni di euro. Ma giocatori come Milito, Schneider, come mai non riescono a trovare quest'anno la stessa forma dell'anno scorso? Milito, a te. Grazie a Alfio Musmarra, io vi lascio per qualche minuto di pubblicità, poi le news del nostro telegiornale, tra poco. Ben ritrovati, ora parliamo di qualità della vita, un argomento che deve necessariamente interessare tutti. In questo senso vediamo qual è il supporto di Federfarma. Dunque lo ricordiamo, la convention nazionale è il 27 e il 28 novembre a Milano. Intanto mi ha raggiunto in studio Paolo Andriolo, il collega della redazione delle news. Buonasera, buonasera Luisa, buonasera ai nostri telespettatori. Come sempre Paolo ci anticipa quelle che sono le principali notizie del nostro telegiornale in apertura, la cronaca. Per fortuna Paolo è una giornata in cui non si parlerà solamente di cronaca, non si è parlato solamente di cronaca. Assolutamente no. E non ne parlerete voi ovviamente nei telegiornali solamente di cronaca, ma parlerete anche molto del maltempo. Un inverno che gioca d'anticipo possiamo dire. Assolutamente. Questo sicuramente. Paolo, però domani è una giornata anche molto importante per la televisione in generale. Ovviamente è un argomento che ci interessa particolarmente. Domani ci sarà lo switch off in tutta la Lombardia, quindi si passa definitivamente all'era digitale. Quello che è importante dire e ribadire, l'abbiamo detto in tanti modi, è che noi ci siamo, sia come Tele Lombardia, sia come Antenna 3, come Milan Auto, Top Calcio 24. Quindi ci saremo sempre comunque. L'importante è fare una ricerca, giusto? Sì. Grazie a Paolo Andriolo che ritroverete praticamente alle 19.15 alla telegiornale di Tele Lombardia insieme ad Annalisa Corti. Grazie per essere stato con noi. Grazie a Teresa. Una buona serata a tutti voi e Piauar torna domani sera puntuale. Arrivederci.